Ciao ragazzi e benvenuti. Io sono Francesco Placci, questa è la chiacchierata che facciamo nei fine settimana circa l'andamento dei mercati. Prima però di entrare nel vivo e vedere che cosa è successo questa settimana, vi invito a iscrivervi al nostro canale e magari lasciare anche già un bel like a questo video. Ciao, per Andrea Unger per molti anni ho sbattuto la testa sui mercati finché non ho sviluppato il mio metodo di trading automatico. Lo stesso che mi ha permesso di diventare l'unico quattro volte campione del mondo di trading. Iscriviti al nostro canale per spunti e consigli gratuiti. Beh, per riassumere direi che è stata una settimana da dimenticare, diamo un'occhiata ai rendimenti a cinque giorni e vediamo praticamente solo dei segni rossi, salvo qualche sporadico rendimento positivo, ma vedete un pochino tutti i mercati mostrano un andamento di tipo ribassista. I maggiori ribassi si sono concentrati sul mercato degli indici azionari, grossi ribassi anche sugli energetici, in particolare sul Natural Gas e infine sul Bitcoin che perde un 30% quasi questa settimana. Ma partiamo dagli indici azionari. In questo grafico vediamo il Mini SP500, vediamo che ha rotto i recenti minimi, vediamo una volatilità che è alta un pochino su tutti gli indici azionari e questa settimana il Mini SP500 perde al momento un 5,5% circa. Molto male anche il Nasdaq, meno 5%, meglio le borse europee, meno 4, meno 4,60 per Eurostox e DAX. Vediamo che c'è una effettiva differenza tra l'andamento delle borse europee e quelle americane perché le borse europee non sono ancora state in grado di rompere i minimi di inizio marzo mentre, come abbiamo visto poco fa, le borse americane sono decisamente a livelli più bassi, nonostante la guerra si trovi in in Europa e quindi legittimamente si poteva immaginare qualche uno scenario leggermente diverso. Sicuramente questa situazione è figlia anche dell'aumento tassi portato avanti dalla Fed di 75 basis point che ovviamente pesa di più sull'economia americana e pesa anche sul mercato dei tbond. Infatti vediamo il tbond che perde uno 0,80 questa settimana, male tutti i bond, compreso anche il decennale europeo, il bund, che in questo caso fa peggio rispetto all'andamento dei bond americani. Sono uno scenario veramente brutto in cui la situazione macroeconomica attuale pesa sia sulle borse, quindi sugli indici azionari, che sugli indici obbligazionari. Male anche gli energetici e questo è l'unica nota forse positiva, mi riferisco in particolare all'andamento del natural gas che perde quasi un 17 per cento negli ultimi cinque giorni. Male anche l'RB e un po' meglio il crude oil, l'unico future positivo è l'hitting oil. Continua la brutta performance del mercato dei beni rifugio, cioè i metalli, con rendimenti negativi, li vediamo a tre mesi anche in questo caso, vediamo rendimenti, nonostante la discesa degli indici, rendimenti intorno al meno 10, meno 14 per cento. L'unico che fa un pochino meglio è l'oro. Rimbalza leggermente il linux, una buona performance tutto sommato direi, vista la settimana, un 3,34 per cento di rialzo. Male anche il mercato delle soft commodity. In particolare l'unico future positivo è quello del caffè, più 1,5, mentre passando al mercato dei cereali, anche in questo caso vediamo performance non esaltanti, il che comunque è positivo. Il grano comunque sale poco, 1,080, sale il corn, più 2,71 ed era effettivamente salito molto meno rispetto al grano e probabilmente anche in questo caso, anche nel caso del corn, pesa la situazione, la guerra in essere tra Russia e Ucraina. Passando adesso alle valute, vediamo rendimenti fortemente negativi, quindi forza del dollaro, su tutti i cross. Attualmente l'euro dollaro si trova a 1,06, in leggero ribalzo, scusate, 1,05, in leggero ribalzo rispetto ai minimi recentemente toccati. Poi abbiamo infine il Bitcoin che è stata veramente una debacle questa settimana, un meno 28 per cento negli ultimi cinque giorni, si trovava all'interno di un trading range e come solitamente avviene, quando Consolida poi rompe questi livelli si assiste a movimento fortemente direzionale. L'abbiamo già visto in diverse occasioni. Come ci si può immaginare la volatilità è alta un pochino ovunque, in particolare sugli indici azionari e sui bond, ma non solo, anche sulle valute, sul Bitcoin, siamo vicini ai massimi storici di volatilità. Passando a dare un'occhiata invece alla volatilità implicita, abbiamo una struttura che è mista, è quasi in backwardation, alcune scadenze sì e altre no. Il VIX si trova a un valore di 31, quindi nella fascia alta dei valori toccati negli ultimi sei mesi. La cosa curiosa è che noi siamo ancora in pieno panico, nonostante il ribasso delle borse americane sia effettivamente degno di nota. Guardate il Nasdaq da massimo a minimo, siamo oltre il 30% di ribasso, tuttavia la struttura a termine della volatilità degli indici sull'SPX non mostrano ancora segni di panico e questa è una cosa abbastanza curiosa e probabilmente la mia paura che stia ad indicare che forse il ribasso in corso non è ancora arrivato al suo massimo. Diamo adesso un'occhiata ai rollover previsti per la prossima settimana. Abbiamo per partire il 22 lo Sugar, sempre allo stesso giorno Bitcoin ed Ethereum, il 23 seguirà il Natural Gas e infine il 24 il succo d'arancia. Bene, per oggi direi che è tutto. Ricordo a tutti voi che se siete interessati al trading sistematico avete a vostra disposizione all'interno della descrizione di questo video un link che vi consentirà di partecipare ad una presentazione gratuita di Andrea Unger il quale vi introdurrà il suo metodo di trading che gli ha consentito di vincere per ben quattro volte il campionato mondiale di trading con denaro reale. Infine potrete accedere ad altre risorse molto utili quindi il mio consiglio è dategli un'occhiata. Vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo di mettere un like se il video vi è piaciuto ed iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un felice weekend a tutti voi.